ciao ciao a tutti mi chiamo rea e ho 35 anni e sono italiana e sono arrivata in colombia alla fine di maggio e ora è luglio e sono arrivata che il mio livello di spagnolo era praticamente zero e ora riesco già a fare qualche piccola conversazione in spagnolo per me essere qui in colombia è stata un'esperienza bellissima perché la gente del posto è estremamente gentile estremamente socievole e quindi ti senti sempre a casa e quindi invito e incoraggio tutte le persone che vogliono studiare spagnolo a venire qui in colombia my name isrea i'm 35 i'm italiana but i live and work in the uk i came here in colombia towards the end of may now it's july and when i arrived here my level of spanish was basically zero whereas now in july i'm able to do a little conversation in spanish and i really encourage everyone who wants to learn to speak spanish to come here in colombia because the the people the locals are so so friendly and sociable and kind that you will always feel at home